Buona giornata, oggi domenica, oggi 2 giugno, festa particolare per qui in Italia, per lo Stato italiano, festa particolare anche nella Chiesa, perché? Perché si festeggia il Corpus Domini, la del giovedì precedente, ma in molte Chiese questa domenica, in questa giornata. Festeggiare il Corpus Domini significa festeggiare la presenza di Gesù attraverso il corpo suo, attraverso l'Eucarestia, il corpo e il sangue è suo. Noi dobbiamo ringraziare dell'Eucarestia, noi dobbiamo ringraziare della sua presenza, vederla lì, toccarla, starci, esserci. Dobbiamo ringraziare dell'adorazione. L'esperienza dell'adorazione è un'esperienza unica, sembra di perdere tempo davanti alla presenza di Gesù è un acquistare tempo, sembra di prendere il sole con ognuno con i suoi pensieri o anche senza pensieri, ma sono lì presente. L'adorazione fa bene e fa del bene. Perché allora non accogliere, non solo oggi, ma anche nel corso di questo mese di giugno, il senso della presenza di Gesù in quel corpo e sangue, così come oggi lo festeggiamo. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.